salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi trattiamo un argomento che qua sul canale non tratto spesso cioè la parte burocratica per quanto riguarda i nostri amatissimi droni io ne parlo poco del lato burocratico faccio qualche video ogni tanto ma non molti perché preferisco molto di più il lato pratico di quello diciamo teorico però in certe situazioni ho fatto dei video appunto in cui ne ho parlato e questo è appunto uno di quelli sì perché come ormai tutti sappiamo il primo di luglio sarebbe dovuto entrare in vigore il nuovo regolamento europeo con tutte le sue modifiche che avrebbe portato al regolamento del nostro amatissimo hobby però causa pandemia tutto questo è stato rimandato al primo gennaio 2021 quindi è stato tutto posticipato di ben sei mesi questo secondo me non è un bene dal mio punto di vista io avrei preferito che fosse entrato in vigore il primo di luglio perché almeno si avrebbero avuto delle regole chiare e non più cose un po campate in aria cose che cambiano un mese sì il mese dopo in maniera diversa c'è un regolamento che almeno è quello è quello che poi abbia dei pro e dei contro ma almeno un regolamento ben chiaro questo non accadrà quindi accadrà probabilmente salvo sorprese dal primo di luglio anche perché se come è stato detto ci sarà un ritorno del coronavirus in maniera decisa quest'autunno magari potrà essere posticipato un'altra volta ma questo è un altro discorso quindi cosa succederà dal primo di luglio questa è una domanda che ci stiamo ponendo in tanti allora le domande che c'è da porsi sono queste questo bellissimo patentino che io mi sono pure stampato in multicolore perché lo volevo avere da sfoggiare perché io ho fatto il patentino quindi se mi avessero fermato dal primo di luglio io avrei potuto sfoggiare il mio patentino magari colorosa perché colorosa lo stampato in rosa perché ricorda quello della patente della macchina quindi mi piaceva un sacco rosa però ho stampato anche giallo e anche bianco questi patentini bellissimi che ho stampato dal primo di luglio li dovrò sfoggiare o li dovrò riporre in un cassetto fino al primo gennaio 2021 questa è una domanda perché comunque il regolamento ENAC attualmente dice che non ci vuole questo patentino ma dal primo di luglio ci sarebbe voluto appunto per il discorso che si sarebbe entrato nel regolamento europeo quindi questa è una domanda che ENAC dovrà rispondere anche in maniera veloce perché comunque se uno può aspettare magari non lo fa subito e lo fa con calma perché dice tanto ho ancora sei mesi quindi non corre a farlo l'altra domanda è quindi mi basterà per volare come sto facendo adesso solo l'assicurazione fino al primo gennaio 2021 per volare con un Mavic Mini, Parotanafi, Mavic Air 2, Autelivo, Mavic Pro cioè per volare con questi droni basterà ancora solo quello? E questa è un'altra domanda che ENAC dovrà affrettarsi assolutamente a rispondere e un altro problema che sorge è quello della registrazione di questi droni perché attualmente non è necessario registrare nessuno di questi droni ma dal primo di luglio sarebbe stato obbligatorio registrarli quindi questi droni sarebbero droni da registrare su DeFlight però attualmente per registrare questi droni dobbiamo registrare singolarmente ogni drone e pagare 6 euro a drone mentre con il regolamento europeo non sarebbe dovuto essere così nel senso che il QR code che andiamo a generare su DeFlight cioè questa targa che andremo a appiccicare su ogni drone è una targa identificativa ma diciamo collegata a noi come persona nel senso che la persona fisica ha questo tipo di targa quindi paga una determinata cifra una volta e a quel punto genera tutte le targhe che vuole e le appiccica sui suoi droni quindi queste targhe portano sempre a quella persona che ha pagato una volta sola come persona fisica mentre attualmente non paga la persona fisica ma pagano i droni quindi chi ha più di un drone dovrebbe pagare 6 euro per due droni tre droni quattro droni e via dicendo quindi questo è un altro dubbio che si ha e il problema è che il primo di luglio è veramente veramente vicino quindi mancano circa 20 giorni e a tutto questo Enac dovrà porre delle risposte ma dovrà porre in maniera semplice uno semplice nello spiegarle e semplice anche nel divulgarle perché non dobbiamo essere noi youtuber a divulgare le notizie di Enac cioè se non ci fosse youtube Enac come divulgherebbe le notizie o meglio se non ci fossero gli youtubers come farebbe Enac a divulgare le notizie visto che fa veramente fatica a divulgarle in maniera semplice e chiara questa è una cosa che Enac deve intervenire perché questi droni ce l'hanno veramente tantissime persone che non possono perdere tempo andare a diciamo cercare di interpretare capire deve essere chiaro semplice deve essere alla portata di tutti i droni sono un oggetto di facile reperibilità a giorno d'oggi anche di facile utilizzo Enac deve andare di pari passo con i droni cioè essere semplice nello spiegare le cose e semplice andare a reperire le risposte sulle domande a cui uno ha dei dubbi a riguardo dei regolamenti per i droni e un'altra questione che subentra è il trasponder dal primo di luglio sarebbe dovuto entrare in vigore anche il trasponder cioè questo accessorio da montare sui droni e che poi tramite uno smartphone sarebbe possibile leggere questo segnale e avere delle informazioni riguardante quel drone e diciamo il proprietario di quel drone quindi le informazioni anche su come ci si sta comportando a livello di volo se si sta andando fuori o meno dalle regole tutte queste cose ma questo trasponder che già anche col regolamento europeo secondo me non sarebbe arrivato il primo di luglio adesso che fine farà? verrà posticipato? secondo me sì perché Enac non è in grado sicuramente di diciamo distribuire questi trasponder visto che fa già fatica a distribuire i QR code che comunque hanno fatto veramente in pochi in proporzione ai droni che ci sono attualmente in commercio quindi immagino che questo dispositivo di sicuro slitterà al primo gennaio 2021 se non oltre e un'altra questione è l'applicazione perché doveva essere rilasciata un'applicazione da D-Flight questa applicazione che però anche questa applicazione che doveva permettere appunto anche la lettura del QR code di avere delle informazioni su dove si sta volando comunque una sorta di applicazione che sulla carta però avrebbe potuto creare dei problemi secondo me sulla privacy anche questa cosa come anche il trasponder entrambe queste due cose secondo me non saranno ben accette perché comunque secondo me la privacy lì è un po' sul... perché a livello di privacy siamo un po' lì sul filo del rasoio non è molto chiara comunque queste cose attualmente non ci sono ancora quindi ragazzi questo era solo un video per farvi capire com'è la situazione attualmente nel mondo dei droni cioè un casino è un casino da quando siamo partiti con queste cose transitorie per arrivare al primo di luglio tutti belli pronti belli preparati belli messi a nuovo e aspettiamo tutti ragazzi delle risposte perché veramente siamo messi male siamo gestiti male e siamo tutti messi male è iniziato male questo cammino da quando diciamo è entrato in vigore questo diciamo momento transitorio dove è stato confusionario all'inizio lo è stato confusionario a metà e lo è ancora adesso che siamo arrivati al capolinea quindi è stato un momento o meglio un periodo transitorio confusionalissimo che ha portato solo disperazione dal punto di vista burocratico e basta ragazzi veramente è stato un casino è un casino e si presuppone che lo sarà ancora per quello che vi dicevo all'inizio che se almeno fosse entrato in vigore sto cavolo di regolamento europeo cose belle o cose brutte ma chiare erano quelle una linea guida c'era ed era quella invece così siamo ancora lì che ci sarà qualcosa di transitorio perché Enac dubito che lasci tutto com'è fino al primo di luglio che secondo me però sarebbe a questo punto la soluzione migliore per non creare un altro casino o creare ancora confusione per andare ancora a cercare di capire cos'è cambiato da rispetto a giugno quando sarà il primo di luglio cioè a questo punto spero che Enac lasci quasi tutto uguale che vada a ritoccare solo quelle cose necessarie e basta perché poi dal primo di gennaio ricambierà ancora tutto un'altra volta quindi ragazzi spero che questo video e mi è venuto anche un caldo bestia in cui vi ho portato sul canale questa informazione sul fatto che il regolamento europeo è stato posticipato e della confusione che ci aspetta attualmente vi è piaciuto lasciate un grosso ragazzi pollice su iscrivetevi al canale Telegram offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo, una decisione, un testo, un torno, una novità ciao 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 ciao